E' arrivata intorno alle 12 al porto commerciale di Salerno la nave Catania partita da Tunisi con oltre 100 cittadini italiani a bordo. La nave ha riportato in Italia 105 persone che erano rimaste bloccate in Tunisia dove si trovavano per motivi di lavoro. Prima di lasciare il porto africano tutti sono stati controllati dalle autorità locali che sono sincerate le loro condizioni di salute. Al momento della partenza da Tunisi nessuno dei 105 italiani in attesa di essere rimpatriati ha palesato sintomi particolari. La nave è giunta a Salerno in ritardo rispetto alla tabella di marcia preventivata proprio per effetto dei controlli sulle persone imbarcate al porto di Tunisi. Intorno a mezzogiorno l'approdo a Salerno mentre in prefettura si svolgeva una call conference tra la sua eccellenza Francesco Russo e i sindaci di tutti i comuni della provincia di Salerno ad attendere i passeggeri della nave Catania e la personale sanitario che ha verificato le condizioni di ciascuno. Presenti in gran numero le forze dell'ordine dei vari corpi dello Stato, i passeggeri una volta scesi a terra hanno firmato una dichiarazione e sono poi partiti verso le rispettive residenze su auto e furgoncini a noleggio. Tutti saranno sottoposti all'obbligo di quarantena nei comuni di residenza. Le operazioni hanno richiesto diverso tempo ma si sono svolte in totale sicurezza e tranquillità. Tornare in Italia era l'unico pensiero per queste persone che ora non vedono l'ora di far ritorno a casa e di rivedere i propri cari.